Amiche e amici tifosi pisani benvenuti o bentornati in questa prima puntata del 2024 dello studio Serie B partiamo con la ventunesima giornata cioè la seconda del girone di ritorno con una partita importante l'anticipo di questa sera del venerdì tra Sampdoria e Parma due grandi squadre cadute nel campionato cadetto in due però posizioni di classifica diametralmente opposte il Parma primo in classifica con quattro punti sulle seconde Venezia e Como la Sampdoria invece sta lottando nei bassi fondi della classifica gli stessi punti del nostro Pisa 23 quindi a tre punti dalla zona play out sì è vero cinque punti dalla zona play off però sicuramente la squadra di Pirlo sta incontrando grosse difficoltà in questo campionato viene da una brutta sconfitta a Venezia per 5 a 3 dove è anche rimasta in 10 dove ha lottato però fino in fondo poi ovviamente il Venezia con il suo potenziale offensivo è venuta fuori e ha vinto la partita il Parma viene da un brutto 1 a 1 invece in casa contro l'Ascoli fermata appunto dalla squadra marchigiana domenica scorsa però secondo me il Parma in questo momento e a livello generale è superiore alla squadra blu cerchiata per me infatti pronostico 1 un x 2 over 1 e mezzo pronostico 2 multigol 1-3 casa perché comunque credo che la Sampdoria possa tranquillamente segnare mi aspetto una partita vivace una partita importante il Parma deve riprendere il percorso che ha la vista protagonista fino ad adesso nel campionato di Serie B la Sampdoria probabilmente deve vendicare e rivendicare un po' la sua potenza al Marassi e quindi mi aspetto una partita scoppiettante passiamo alle partite di domani partendo da Brescia su Tirol sia il Brescia che il su Tirol vengono da due vittorie il su Tirol è in casa contro la Ferral Pisalò il Brescia ha battuto a domicilio a Modena per 2 a 1 la squadra canarina quindi il Brescia da quando è arrivato Maran sulla panchina delle rondinelle ha fatto un salto di qualità soprattutto nei risultati riposizionandosi nella zona playoff credo che il Brescia abbia qualcosa in più di un su Tirol che al contrario cambiando l'allenatore non ha cambiato percorso al suo campionato nonostante sia comunque una linea di galleggiamento che la porta fuori dalla zona diciamo play out a un punto in più se non ricordo male del Pisa 24 quindi si mantiene su quella linea di galleggiamento credo però che il Brescia abbia qualcosina in più rispetto alla squadra altoatesina per cui il mio pronostico 1 è un 1x under 4,5 il pronostico 2 è un multigol 1-3 secondo tempo Ferral Pisalò Catanzaro allora la Ferral Pisalò sembrava ormai destinata a un destino diciamo negativo naviga sull'ultima posizione di campionato praticamente dall'inizio non ha appunto avuto mai grandi scossi magari qualche risultato positivo sia arrivato soprattutto nell'ultimo periodo il Catanzaro viene dal 5-3 al Como della scorsa settimana dopo però un periodo veramente difficile dove aveva perse 3 di fila quindi il Catanzaro probabilmente sta ripartendo è una squadra forte con giocatori importanti però credo che la Ferral Pisalò abbia poche possibilità di fare il risultato contro il Catanzaro però io mi copro e metto x2 over 1,5 pronostico 2 multigol 2-4 ospite il Catanzaro è una squadra che segna molto soprattutto alle squadre magari un pochino più piccole nonostante abbia dato anche mi pare 5 gol al Parma però è una squadra che a livello offensivo è molto importante per cui per me a Piacenza contro la Ferral Pisalò potrebbe anche segnare più di un gol passiamo a Reggiana-Como allora la Reggiana vista sabato scorso a Pisa è una squadra che appunto anch'essa lotta per il mantenimento della categoria con le unghie e con i denti Nesta sta cercando di dare continuità ai risultati della sua squadra il Como è una squadra molto forte quest'anno veramente punta fortissimo in alto e secondo insieme al Venezia pari punti a 38 ovviamente tendo a pensare che la squadra lombarda sia favorita nonostante i giochi in trasferta dopo anche il risultato roboante per 4-0 contro lo Spezia sabato scorso quindi per me il pronostico 1 è un X2 under 4,5 pronostico 2 multigol 1-3 secondo tempo passiamo a Spezia-Cremonese allora lo Spezia nonostante abbia cambiato anch'essa l'allenatore e ci è andato Mr. D'Angelo un mister che conosciamo benissimo per essere stato 5 anni da noi non ha dato quel quid in più purtroppo per lui bene perché sappiamo quanto non amiamo sicuramente la squadra bianconera questa è una partita difficilissima da analizzare e da pronosticare perché la Cremonese si ha vinto 1-0 contro il Cosenza ma non ha brillato nella prestazione è una squadra sempre un pochino in sordina Stroppa sta dando il suo metodo di gioco ma non ha mai fatto grandissime prestazioni e dato anche continuità di risultati devo essere sincero lo Spezia ha bisogno come l'ossigeno di una vittoria soprattutto davanti al proprio pubblico è una partita impronosticabile nel risultato e infatti io mi sono un po' coperto e il pronostico 1 è un gol over 2,5 mi aspetto una partita dove entrambe le squadre cercheranno la vittoria e magari sbilanciandosi potranno anche subire il gol e quindi di conseguenza farlo l'altra pronostico 2, multigol 1-3 ospite lo Spezia è una squadra che prende tanti gol è perforabilissima in difesa la Cremonese ha un potenziale offensivo importante per cui secondo me la Cremonese al picco almeno una rete andrà a segnarla Ternana-Cittadella la Ternana un po' come lo Spezia ha bisogno impellente di fare punti il Cittadella è la sorpresa di questo campionato anche se chiamarla sorpresa ormai è sempre riduttivo visto che sono anni che Cittadella sta facendo benissimo nel campionato di Serie B è praticamente a pochi punti dalla proporzione diretta in Serie A addirittura è quarta ma con Venezia e Como secondi a pari punti è al terzo posto e quindi il Cittadella proverà sicuramente andare a fare il risultato anche a Terni è vero anche che praticamente Cittadella non perde dalla partita contro il Pisa l'ultima partita persa del Cittadella è stata l'Arena Garibaldi 2 a 1 contro di noi e poi non ha più perso era il 21 ottobre addirittura dal calendario che ho qui davanti quindi sono circa tre mesi che non perde il Cittadella per cui insomma è una squadra importante però andare a Terni è sempre difficile credo che prima o poi Cittadella magari un inciampo potrà trovarlo perché no contro la Ternana speriamo di no perché se no risalirebbero anche loro in classifica e per noi potrebbe essere un problema però io ho messo un pronostico 1 un 1x under 4,5 pronostico 2 multigol 1-3 ospite Cosenza-Venezia altra partita delicatissima per la squadra calabrese il Venezia viene dalla vittoria appunto contro la Sampdoria per 5-3 però analizzando un po' il campionato dei Lagunari ho visto e ho notato che con le squadre più piccole fa sempre grande difficoltà pareggiato contro il Lecco pareggiato contro la Feral Pissalò con le squadre piccole tende ad avere molta difficoltà specialmente in trasferta ed è per questo che provo con questo pronostico 1 un po' un contro pronostico un 1x over 1,5 però pronostico 2 multigol 1-3 ospite perché appunto poi Ampalo sembra essersi sbloccato dopo un inizio di stagione non brillantissimo per me però ecco insomma il Venezia non passeggerà facilmente a Cosenza direi copito sostanzialmente una partita che è una finale poi vedrete un mio video che uscirà oggi pomeriggio un piccolo short di un minuto dove dico qualche cosa anche su questa partita passiamo a Palermo-Modena Palermo-Modena io l'ho analizzata che secondo me potrebbe finire anche 0-0 e infatti vi dico subito i pronostici per quanto mi riguarda è un under 3,5 e pronostico 2 x almeno un tempo non ho saputo analizzarle in maniera diversa perché secondo me le due squadre saranno lì che se la giocheranno due squadre che il Modena non segna molto ma non subisce molto il Palermo è una squadra molto altalenante ha perso 2-0 a Cittadella settimana scorsa per cui per me ecco una partita che potrebbe anche finire 0-0 è per questo che ho messo questi due pronostici poi magari finisce 7-2 o 7-7 però per me io l'ho analizzata a priori in questo modo veniamo all'ultima gara che si giocherà domenica alle 16.15 e cioè Ascoli-Bari vi faccio vedere subito il pronostico x2 under 4,5 pronostico 2 corner hospital over 5,5 dopo magari due risultati che potrebbero esserci sfavorevoli a livello di classifica come Cosenza e Ternana qua ho voluto diciamo mettere un po' un pronostico che ci possa anche essere favorevole visto che l'Ascoli è andata a pareggiare a Parma sabato scorso sappiamo che solitamente queste squadre magari un pochino più piccole vanno a fare grande risultato con una grande poi magari la settimana successiva possono cadere anche con una squadra un pochino meno grande anche se il Bari sti cazzi avercene di squadre come il Bari quindi questo è un po' il mio pronostico per Ascoli-Bari la mia analisi per Ascoli-Bari direi che è tutto questo studio finisce qua è solamente soltanto un divertimento da parte mia ditemi la vostra qua nei commenti mettete mi piace al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina perché così non vi perderete nessun altro video poi di commenti sicuramente di analisi di Lecco Pisa nei prossimi giorni e come sempre forza ragazzi forza Pisa grazie a tutti